cari amici della rari eccoci a un nuovo appuntamento per conoscere i nostri campioni eduardo campopiano buongiorno a te ciao a tutti allora edo edo per tutti no questo nome poetico no eduardo perché eduardo è di salerno quindi insomma ha un suo perché giusto con la u con la dode filippo in realtà è una tradizione familiare mi chiamo come mio nonno e quindi eri editato il nome da mio nonno però adesso sei stato adottato a savonese sì 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 sono edo allora edo vice capitano non dimentichiamolo perché insomma sei qui da cinque anni quindi oramai sei a tutti gli effetti savonese ormai sono di adozione savonese cosa cosa ti piace di savona a savona la città molto simile alla mia diciamo città natale che è salerno e insomma c'è il mare c'è il porto una città a passo duomo quindi molto divertente e quindi no no sono molto diciamo felice di essere qui a savona e mi piace molto savona ormai sono cinque anni quindi direi che mi piace abbastanza e poi ti credo è la prima cosa insomma la rari viene prima di tutto abbiamo un po di te fidanzato lo sappiamo tutti con lucrezia ruggero che salutiamo sincronetta insomma campionessa e questo rapporto perché lucrezia noi la vediamo una ragazza assolutamente solare esplosiva eccetera così un pochino più riservato sì diciamo che lei coinvolge la parte coinvolgente della coppia io sono un po più riservato un po più tranquillo però diciamo che siamo molto simili abbiamo tante idee in comune poi diciamo che c'è lo sport che ci appassiona ad entrambi quindi io sono suo tifoso lei è mia tifosa raccontaci invece qualche tua passione ad esempio la cucina beh sì sono un grande appassionato di cucina specialmente della panificazione quindi mi piace fare sì pane e pizza ora sto sperimentando i dolci però non sono ancora cioè devo ancora vedere bene come la pastiera la pastiera ci ho provato quest'anno non è andata benissimo però dai ci riproverò l'anno prossimo vediamo come va perché abbastanza di fili dolci non sono il mio forte ecco però pane pizza pasta insomma pesce carne posso dire la mia sei un cuoco perfetto sì sì è un po un po per necessità lo sono diventato perché insomma vivendo da solo qui a Savona ho dovuto imparare quindi lucrezia fortunata cucini direi sì 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 assolutamente cucino io cucino io anche se insomma lucrezia deve tenere la forma la linea non esagio non esagio e invece altri hobby al di là della cucina ma in realtà non ne ho tanti altri perché insomma studio quindi sto facendo sto finendo la magistrale in scienze economiche quindi insomma mi tengo occupato con lo studio e e poi sono appassionato di film un po di lettura allora allora facciamo una cosa perché i nostri i nostri ascoltatori insomma ci tengono a conoscerti andiamo per per gradi e detto che studi insomma uno studio abbastanza impegnativo come ti vedi nel tuo futuro quindi ma in realtà non so ancora non ho un obiettivo ben preciso a livello lavorativo sicuramente la mia passione più grande quella di continuare a giocare a pala a nuoto e quindi poi dopo vedremo insomma quella quali porte dal punto di vista lavorativo si apriranno non hai ancora scelto non è ancora scelto finisci di studiare poi vediamo ci riaggiorniamo anche con voi e senti invece per quanto riguarda libro preferito film preferito che dicevi ma in realtà libro preferito ultimamente ho letto il caso alaska sanders di joel dicker e come film preferito e beh ce ne sono tanti che mi piacciono se dovessi sceglierne uno ma vado su un grande classico il padrino non lo so si dai e beh insomma e si 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 è un film che insomma travalica tutti e un po unisce tante generazioni un grande classico un grande classico e musica musica guarda molto poca no 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 zero assolutamente non sono un grande fan cultore della musica e mi piace ascoltare musica della radio insomma musica commerciale niente di particolare in questo l'ha detto anche bruni insomma quella che vi carica si non c'è niente diciamo nessun genere in particolare torniamo a parlare di pallanuoto è perché poi così adesso ci rilassiamo un attimo perché la prima parte è quella più complicata beh sì perché devi scavare dentro di te trovare le tue cose si vi aprite un po' insomma ai nostri ai nostri tifoni che ci conoscono anche in altre vesti è giusto è giusto bravo allora parliamo di questa partita con recco che insomma devo dire che tutti hanno detto vi siete comportati molto bene il recco è una corazzata lo sappiamo non era quella la partita diciamo da puntare la partita da puntare è quella che arriverà sabato beh sì è detto bene abbiamo fatto un'ottima prestazione con il recco non è mai facile giocare contro una squadra la squadra probabilmente più forte al mondo e ci siamo comportati davvero bene c'è stato qualche piccola imperfezione ma voglio dire contro i più bravi al mondo è più che giustificata però l'appuntamento più importante è sabato diciamo che è la partita più importante dell'anno è il nostro obiettivo è quello di andare più lontano possibile in coppa e siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo dimostrare a berlino dobbiamo abbiamo l'occasione di farlo di dimostrare il nostro potenziale la nostra forza e il nostro gioco quello che ci chiede di fare allenatore tutti i giorni e quindi sì direi che la partita più importante di tutte come la vedi tu ma la tua sensazione ma in maniera molto sincera io credo che possiamo fare molto bene lì a berlino in casa non siamo stati come dire incisivi all'inizio esatto incisivi e abbiamo peccato con alcuni errori in fase di transizione loro sono riusciti a dare via una partita un po dai due volti no i primi due tempi i secondi due tempi sì esatto i primi due tempi abbiamo giocato molto a mio avviso abbastanza male poi dopo invece siamo sul terzo e quarto tempo diciamo ripresi abbiamo fatto insomma un bel parziale abbiamo recuperato e eravamo vicini al parete insomma fino alla fine poi loro insomma a un'azione dalla fine della partita sono riusciti ad andare in vantaggio di uno però come dico sempre nella pala nuoto ho visto tante cose succedere nelle partite di andata e di ritorno quindi non c'è mai un non c'è mai una insomma una storia già definita è tutto ancora da scrivere ci auguriamo insomma di andare a berlino e di fare di esprimere il nostro il nostro meglio non è il giusto il nostro gioco al meglio mercoledì primo maggio partono i play off subito gara 1 qua a savona con il brescia alle 19 beh sì ecco un altro grande obiettivo è quello di insomma cercare di arrivare alla finale scudetto quindi prima di arrivare alla finale scudetto si passa per il brescia che un avversario non da poco anzi ha dimostrato in coppa italia insomma il suo valore è riuscito a battere il recco quindi insomma ci aspetta una partita molto impegnativa e una serie di partite ci auguriamo è molto impegnativa e insomma però non impossibile no no assolutamente sono sincero secondo me siamo sullo stesso livello sullo stesso piano la differenza sarà nei dettagli e questa è la cosa che chi sarà più bravo appunto avrà più lucidità nei momenti importanti topici della partita riuscirà a portare a casa insomma il risultato ecco gara 1 a savona gara 2 a brescia l'otto di maggio eventuale gara 3 di nuovo a savona l'undici maggio quindi insomma un piccolo vantaggio se così si può dire è reale questo vantaggio di giocare in casa perché avete il sostegno dei tifosi beh sì assolutamente i tifosi sono il nostro diciamo il nostro ottavo uomo in campo io l'ho detto anche l'anno scorso quando dopo la finale di euro cup c'è stato un pubblico bellissimo ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine della partita e ci ha dato tanta carica tanta tanta voglia e questo quest'anno si è visto devo dire parecchie volte in tante partite e ci auguriamo insomma che per questo finale di stagione i nostri tifosi accorrano numerosi a sostenerci perché ci serve il vostro sostegno i nostri giovani pallanuotisti che vi aspettano sempre alla fine della partita per darvi 5 ecco sì 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 no loro sono sono fantastici ogni volta che ci incrociamo durante la fine degli allenamenti il loro inizio la nostra fine ci salutano ci chiedono sono veramente stupendi e mi ricordano me da piccolo che consiglio ti senti di dare ma consiglio è quello di lavorare e poi alla fine il duro lavoro paga sempre va al di là del talento e la voglia può battere può abbattere qualsiasi limite che sia fisico che sia tecnico e quindi voglio dire perseverare perseverare sempre allora andiamo sempre un passo per volta come facciamo in tutte le interviste primo impegno sabato 27 a berlino e proprio per questa partita io ti chiedo come ho chiesto già a bragantini a bruni di fare un appello a chi ci ascolta e che ci sta seguendo proprio per mandarvi l'incitamento sui social non si può venire a berlino la maggior parte di noi non potrà essere presente ma col cuore sì e allora i post possono aiutarvi certo no diciamo chiedo a tutti i tifosi di commentare scriverci su instagram sui social di sostenerci perché noi tramite diciamo il vostro sostegno che leggiamo sempre insomma su tutti i social riusciremo a caricarci ancora di più prima della partita bene allora questo è l'invito di eduardo campopiano e poi naturalmente l'appuntamento qui nella piscina zanelli di savona per il primo maggio alle 19 e lì cosa dire venite venite tutti vogliamo una piscina piena vogliamo questo ottavo uomo in vasca che si senta fino a brescia bene grazie grazie a edu campopiano per essere stato con noi grazie a voi per averci seguito alla prossima